Alle 6.30 di questa mattina gli attivisti del movimento animalista Iene Vegane hanno bloccato per protesta e pacificamente l'ingresso del mattatoio comunale di Rovato, in provincia di Brescia. Alcuni attivisti si sono incatenati ai cancelli per impedire l'ingresso dei camion, mentre altri hanno manifestato esponendo cartelli e protestando contro il consumo di carne che causa la morte di animali innocenti che subiscono a milioni in tutto il mondo una morte violenta tra sofferenze indicibili. Se ci si pensa bene non esiste un macello compassionevole, non esiste una tortura compassionevole, non esiste un'uccisione compassionevole, dunque radicalmente bisogna pensare a qualcosa di diverso. È una mediazione probabilmente, io credo che sia molto più utile avere un obiettivo ben sensato, ben preciso. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno identificato i manifestanti al loro arrivo. Una disobbedienza civile a volto scoperto per denunciare la violenza e la tortura che si nascondono dietro una morte prematura ed ingiusta. Tutto questo orrore per un alimento che non fa bene alla salute e al pianeta. Noi siamo qui incatenati al cancello perché è un mattatoio e vorremmo che queste azioni fossero replicate il più possibile. Noi siamo vegani e comunque siamo quindi contro ogni tipo di maltrattamento animale. Siamo nel 2017, ormai è di dominio pubblico che si può stare bene e meglio senza prodotti di derivazione animale, senza carne e nei mattatoi succedono delle cose allucinanti. Gli animali vengono ammazzati senza un minimo distordimento, in pratica quello che gli fanno con la pistola captiva nel caso dei bovini o con lo stordimento elettrico nel caso dei maiali serve semplicemente ad appenderli a testa in giù, alle zampe posteriori con dei ganci perché altrimenti loro si ribellerebbero. Però nel momento in cui iniziano a tagliargli la gola questi riprendono a muoversi, gridano e questo si vede in ogni filmato e questo è anche spiegato dai produttori di carne perché comunque la carcassa, quello che diventerà carcassa, che è ancora un animale vivo, si deve svuotare e questo può succedere solo tramite un cuore che pulsa ancora e questo è il motivo per cui gli animali muoiono pienamente coscienti.